Allora sono pronto di nuovo a continuare a distruggere qui a riconquistare le città vediamo cosa c'è ancora da fare dovevo immaginare che saresti sopravvissuto cosa ti serve ecco come frega la macchina un culo bastardi ciao troppo tardi prima stiamo cercando di chiamare rinforze ci vediamo fuori città truppe di supporto in arrivo squadra a terra resistete ecco eh ho visto un elicottero voglio provare a fregarlo a tutte le unità allerta ristabilire contatto visivo troppo lontano ecco 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 bersaglio fuggito riprendiamo il pattugliamento ola cazzo cazzo cesso eh cazzo è successo tutte le unità disponibili a queste coordinate ripeto tutte le unità a queste coordinate ecco eh perché cazzo è successo prima boh ha colpito è andato c'è andato sulle ventole è stato colpito cazzo rinforzi di terra in arrivo alla vostra posizione bella bella bello fregato l'aereo adesso ehm vediamo cosa possiamo fare vediamo se ci stanno missioni bella madonna tutte queste zone da conquistare cazzo wow wow vediamo se c'è qualcosa qui da fare punto di domanda mmm interessante ehm ah ecco terribile reazione andiamo oh 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 eh cazzo sta succedendo cos'è successo eh cazzo è successo come si è connessione in corso dannazione di nuovo fiero ah ah dai cazzo succede ah 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 adesso si è connesso a internet prima non c'era connessione ah ah adesso si è connesso a internet ah 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 dai dai ah 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 A la prima parte che non c'è l'economia Per l'economia Per l'economica Sembra è un ruolo Il posto è un ruolo Oh, dai. Saliamo, saliamo, saliamo. Continuo a salire di altitudine, vediamo il massimo. Questo è il massimo. Eh, quella isola sembra piuttosto interessante. L'isola là. Ci sono già stato. Vediamo se si trova sulla mappa. Ci vado a fare un giro dopo. Se cominciamo la missione... ah, ecco. Vai, 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 vai. Vai giù, vai giù. No! Che cazzo è successo? Non ci credo. Sono morto. Ma che cazzo? Porca puttana, cazzo. Ho sbagliato l'atterraggio. Ho fatto esplodere l'elicottero. Merda. Ci avevo lavorato così tanto per fregarlo. Cazzo. Capita. Capita. Figa. Figa. Sette minuti sono già... Sono già morto. Figa in set cazzo di minuti. Nooo. Non c'ho più la... Aspetta. E dove sono? Ciao. Buonasera. Vediamo se devo farmela tutta a piedi. Oppure fregare una macchina. Speriamo che passi una macchina. Qua sembra interessante per fare questo. Vediamo se riesco... No. Non ce la faccio. Vediamo se riesco a fregare col... Con la barca lì del cazzo. No. Non credo ce la faccio. Dai, 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 dai. Ecco. 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 Nooo. Non c'è... Cazzo. Ahaha. Che sfiga, figa. Quasi perfetto. Ho sbagliato il pulsante, figa. Lo volevo schiacciare il cerchio. Cazzo. Ehi. C'è qualcun altro qui. Ok. Fuori dal cazzo. Andiamo. E' stato divertente, ma è troppo lento, figa. Troppo lento. Non c'è basket. E' stato liberato uno dei scooter d'acqua. Ecco. Troppo lontano. Fortunato. ecco no eh cazzo fa vuole dal cazzo bella vediamo sta negando poverino sta negando andiamo a salvarlo andiamo a salvarlo andiamo vediamo se è ancora lì no è già eccolo è morto peccato peccato no 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 vai vai no no dai dai aspetti dopo che sta andando vediamo se sta andando in una zona giusta dai dai no no ai isa non dai 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 3 2 3 4 6 10 11 11 merda ecco perfetto qui c'è un paesino da distruggere a me piace distruggere il paesino vediamo un nuovo ordine mondiale per tutto ciò che fai Riko addio ha 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 andiamo lì tada mettiamo anche qui un qualche bomba mettiamo due vediamo se c'è ancora qualcos'altro da distruggere eh eh ecco sì bella questa oh ricevuto inviamo altre truppe alla vostra posizione ecco vediamo dove che sta dove che sta contatto visivo cessato a tutte le unità sparpagliatevi e trovatelo ecco visto vedo avere un tipo lì un gnaro lì troppo lontano o la scatole digitali con sfumata ma cediamo il roma elettorale stupi di rinforzo in arrivo distrutto O è la? Aspetta ci stanno ancora dei cartelli Sì Ho uno Una porta aperta Cancello Devo dire Sì Ecco Sì Sì Eh c'è ancora uno dietro La figa ho chiamato i liberi Oh cazzo Aspetta ci sono cose interessanti lì Eccolo il cartello Andiamo Sì Sì Dispaccio Abbiamo inviato altre rinforzi nella zona Inviamo immediatamente altre forze di terra alla vostra posizione Non mi fa più di perdere tempo Vediamo dove che stanno gli altri Ecco Oh Sì Sì Andiamo Oh ecco dov'è Aha Tolto Eh aspetta sentivo una voce lì Non ci fa toccare Ci sta un altro Altoparlante dove no Ecco Sì Eh già Sì 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 Entro Ehi Ecco Ecco Sì Devo alzare dove c'è la bandiera Andiamo Ehm 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 Ti sta ancora un tipo qui Ehm 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 Questa volta non hanno chiamato gli elicotteri Peccato volevo divertirmi un po' a fregare col che elicottero Pace Sarà per la prossima volta Vediamo Vai 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 Siete fortunati Ehm 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 Bello Un altro posto da distruggere Ehm Cosa ci fa? Ci sia Ehm Dai voglio gli elicotter Ehm 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 Carri armati sul posto Eh Carri armati Cazzo No 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 Merda Bastardi Ho inviato carri armati Merda Oh Cazzo 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 Quella miseria No 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 Non scappiamo Adesso mi distruggo anch'io Carri armati adesso io uso le RPG bastardi Ehm Ehm Guarda come ho volato qui Ehm 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 Sto aspettando gli elicotteri Dove stanno gli elicotteri Dove stanno gli elicotteri Ma fuori del cazzo Non ce la fate Non ce la fate bastardi Adesso Carro armato Stuggiamo tutto qui adesso Wow Che successo Ehm Uno lì Wow Muare La situazione è precipitata Altre rinforze in arrivo Dai 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 Sì Sì Dai Inviate tutti quelli che volete Dai Chi è che mi spara? Dai Madonna figlio Ti fatti volare fuori dal Ecco 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 Distrutto anche l'elicottero di merda Dai Oh cazzo Stare Dai muoviti Merda No Cazzo Il gioco è finito Ehi c'è un altro Un altro frego un altro carro armato Dai Dai Ci sei Wow Se la faccio ancora Dai Vediamo Basta Non inviano più altri uomini Il bersaglio è ancora in libertà Trovatelo Sì Merda Non so Sono capace A Guidare questo carro armato Dai Vediamo Cosa succede lì? Rispondete immediatamente Oh ok Cosa succede lì? Rispondete immediatamente Distrutti Distrutti Tutti E Cosa più bella è che ho ottenuto Un carro armato Ehi Adesso andiamo a fare la missione Cazzo come faccio ad andare lì adesso Vediamo Vediamo Vai Vai Voglio provare a fare la missione con un carro armato Molto Ai